Un fine settimana è il primo dopo insomma tanta sofferenza, dopo uno stop lunghissimo che però è ripartito davvero con numeri incredibili. Siamo ripartiti benissimo tutto il weekend e dico anche finalmente nel senso che dopo oltre sei mesi di vieto, di apertura nei fine settimana anche il nostro outlet è finalmente riuscito a riaprire e la risposta da parte delle clientele è stata comunque veramente una risposta importante. Abbiamo avuto un sabato e una domenica veramente di grandi presenze, di grandi frequentazioni e chiaramente questo ci riempie il cuore di gioia perché significano tante cose, quindi significa un ritorno alla normalità, significa anche che c'è una situazione sanitaria in netto miglioramento, significa anche poter tornare più o meno a fare quello che tutti noi eravamo abituati a fare prima, anche semplicemente appunto una passeggiata, un giro di shopping in mezzo ai nostri negozi. La nostra è una struttura che praticamente è interessata da frequenze da tutto il centro Italia, quindi chiaramente multiregione, a partire dall'Umbria che è veramente qui vicina, ma anche appunto il Lazio e poi sì effettivamente incominciamo a rivedere anche delle prime presenze straniere, chiaramente c'è la corrispondenza diciamo così delle festività della Pentecoste che sono un po' l'inizio anche di una stagione turistica da parte di molte nazionalità europee, devo dire che si incominciano a vedere anche i primi stranieri e anche questo è un elemento che comunque ci conforta perché sia la nostra struttura ma anche tutta l'area, il territorio qui intorno vive anche di turismo estivo, vive di turismo straniero e quindi questo ci fa un po' ben sperare sui prossimi mesi, sui mesi estivi.